Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Servono 4 milioni di euro per salvare le case Ater di Pescara dal degrado. Una situazione che si trascina da anni e che vede la regione Abruzzo non aver destinato capitoli di spesa alla questione. A chiedere un intervento immediato è il consigliere regionale Pentastellato, Domenico Pettinari, il servizio di Francesca Romana Testi. Dopo tante mobilitazioni ancora non si ottengono i fondi richiesti alla regione Abruzzo per la manutenzione delle case popolari di alcuni quartieri di Pescara, dopo tantissime denunce anche da parte dei residenti. La cifra richiesta era 4 milioni di euro, emendamenti del Movimento 5 Stelle bocciati. Oggi è un grande giorno a mio avviso perché siamo riusciti a mettere insieme la rappresentanza di tutti i quartieri di Pescara. Partire da Fontanelle, Rancitelli, Zanni, Sandonato, Via Aldomoro, Cooperativa Ternum, Borgo Marino Sud, Via Rigopiano a Pescara. Quindi tutte le case popolari, i cittadini, questo come l'abbiamo definito noi, un popolo senza diritti, un popolo di cittadini abbandonati a se stessi. Hanno case praticamente distrutte dove piove dentro, ci sono infiltrazioni d'acqua, muffa diffusa, certificazioni della ALS che vanno a circoscrivere l'insalubrità dei posti, dei luoghi dove vivono anziani e bambini. Addirittura in alcune parti ci sono ascensori rotti, quindi anziani che sono stati costretti a vivere segregati in casa e poi sono deceduti. Per anni non potevano scendere fuori di casa. Servono soldi, servono fonti pubblici, non è più tempo di fare parole, di fare chiacchiere. Basta a dire ai giovani delle periferie c'è un disagio sociale e quant'altro. Chi è che provoca questo disagio sociale? Se le periferie sono così martoriate è normale che un giovane cresce male. In una delle ultime denunce del Movimento 5 Stelle proprio al Palazzo della Regione il Presidente D'Alfonso aveva ricevuto alcuni rappresentanti proprio delle periferie. In quel caso c'era stato un impegno da parte sua? Io sinceramente non ho capito quello che ha detto perché io ho sentito solo parole, 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 vedremo faremo, vedremo faremo non esiste. Per questa gente, per gente che non ha più nulla e ci tengo a precisare, le nostre battaglie sono sempre ed esclusivamente per le persone oneste. Mille giorni di chiacchiere con l'intenzione di danneggiare la sanità teatina e trasformare il Santissima Annunziata di Chieti in Dea di primo livello. Questa la denuncia del consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo che porta avanti la battaglia contro il project financing dell'ospedale Teatino. Quella del project financing dell'ospedale di Chieti è una battaglia portata avanti proprio da Forza Italia sin dall'inizio. Tante sono state le contestazioni e tutte le volte la risposta è stata che questo era nell'interesse della Regione Abruzzo. Oggi qual è il quadro? Quando si insiste nel convocare riunioni dove viene chiamata la parte proponente a partecipare, quando addirittura alla parte proponente il progetto di finanza, gli si chiede di controdedurre a un ufficiale pubblico, al RUP, all'ufficio legale della Azi, credo che veramente siamo arrivati al colmo. Addirittura si chiede la epurazione del RUP, cioè del responsabile unico del procedimento, perché ha dato un parere contrario ad una procedura che non ha i piedi per camminare. Sono oltre mille giorni che si cerca di portare avanti un progetto che non è finanziabile né dalla Regione né dalla stessa Alze. Non ci sono i presupposti. Da luglio questa società ha presentato una documentazione incompleta e si continua a insistere. Io credo che la volontà oramai sia chiara e l'intervento del professor Mastropasqua con tutti gli altri 300 suoi colleghi che hanno sottoscritto un documento è chiaro. È quello di far rimanere Chieti un ospedale, un DEA di primo livello, quindi livello più basso e conseguentemente di togliere i reparti clinicizzati e la stessa università dalla città di Chieti. Basta visitare qualunque ospedale, quelli dell'area metropolitana Chieti e quello di Pescara sono ingolfati perché sono stati chiusi 5 ospedali in provincia di Chieti, perché ne sono stati chiusi o comunque declassati almeno 2 in provincia di Pescara. Oramai c'è un declino totale del servizio sanitario a livello generale. Nella convention di Forza Italia ieri pomeriggio all'Aurum di Pescara è stato duro l'attacco dei sindaci di centrodestra al presidente della regione Luciano D'Alfonso. L'accusano di aver lasciato soli i primi cittadini nell'emergenza sisma e maltempo. Alfredo Primante. Si è aperta con il ricordo delle vittime della tragedia di Rigopiano la convention di Forza Italia intitolata all'albero delle libertà svoltasi ieri pomeriggio all'Aurum di Pescara. Accanto al ricordo di chi non c'è più però c'è stata anche la polemica politica. I sindaci di centrodestra, infatti, primo fra tutti quello di Teramo, Maurizio Brucchi, hanno puntato il dito contro il governatore Luciano D'Alfonso, reo di aver lasciato soli i primi cittadini a fronteggiare l'emergenza sisma e quella maltempo. Una denuncia ascoltata anche dai tanti rappresentanti nazionali del partito intervenuti a Pescara, da Elisabetta Gardini a Paola Pelino, da Debora Bergamini a Fulvio Martuscello fino ad Altero Matteoli. Proprio quest'ultimo ha avuto un incontro con il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, appena fuoriuscito dal nuovo centrodestra, diventato alleanza popolare, in dissenso con la linea del partito impostata sia da Angelino Alfano che da Federica Chiavaroli. Sono diverse le voci, infatti, che vogliono il sindaco di Chieti pronto ad entrare in Forza Italia. Alla convention la Laurum è intervenuto anche Silvio Berlusconi, che ha inviato un messaggio ricordando la recente scomparsa dell'ex sindaco di Pescara Carlo Pace. È stato un bravo amministratore che ha fatto tanto per la sua città, ha detto Berlusconi, che ha rassicurato i suoi, dicendosi fiducioso rispetto ad un ritorno alla guida del capoluogo adriatico nella prossima tornata elettorale. È cinque ore di dibattito, però c'è stato un flusso di persone che andava, veniva, tante persone sono state con noi. Forza Italia continua ad essere centrali nel dibattito della politica regionale e nazionale e io sono lieto di questo. E ora ci spostiamo al rosetto degli Abruzzi. L'opposizione di centrodestra contesta l'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti varato dall'amministrazione di Girolamo. Per l'ex sindaco e oggi consigliere di minoranza, Ennio Pavone, non c'era la necessità di un aumento che va a pesare su imprese e famiglie rosetane. Aumenta la Tari a Roseto e l'opposizione contesta questa decisione del sindaco di Girolamo. Non è un incremento, è una salassata. Per alcune attività economiche si parla oltre il 35%, le famiglie oltre il 20%, quindi una media complessiva circa del 25%, quando invece, grazie al lavoro che quell'amministrazione che ho avuto il piacere di guidare ha fatto negli anni, e avendo raggiunto la raccolta differenziata percentuale di circa il 70%, ci sarebbe dovuto essere una diminuzione. Questo è avvenuto perché hanno confuso, a nostro parere, alcune norme, confondendo crediti di dubbia esigibilità con i crediti inesigibili e imputandoli a costo per un conteggio di circa 900 mila euro, di cui tra l'altro nel piano economico-finanziario noi non abbiamo avuto neanche il calcolo di come è stato fatto, non abbiamo le modalità di calcolo di questa somma aggiuntiva. In più hanno apportato costi aggiuntivi per ulteriori servizi, che sono buoni, ma se viviamo in un momento di difficoltà, qual è questo momento? Se uno non si può permettere un vestito nuovo, non se lo compra. Quindi incrementare di questi livelli la Tari nella nostra città significa ammazzare le imprese, il sistema produttivo e mettere in difficoltà tante famiglie. Il sindaco di Girolamo dice che manda gli ufficiali di riscossione nelle famiglie per riscuotere i crediti che i cittadini non hanno pagato. Ecco, io invece dico che bisogna sì fare in modo di sensibilizzare tutti a pagare, ma dobbiamo renderci conto tutti, di Girolamo per prima, che il mondo è cambiato. 21 milioni di italiani hanno debiti con Equitalia, dati di qualche giorno fa. Roseto non è al di fuori del sistema di questo Paese, le difficoltà ci sono. Otto anni fa era un mondo, oggi ne è un altro. Noi abbiamo una ricetta per non aumentare questa immondizia, ci impegneremo anche eventualmente con ricorse alla magistratura amministrativa, qualora l'amministrazione dovesse rimanere sorda. C'è possibilità fino al 31 luglio di applicare queste nostre indicazioni, quindi per non incrementarla speriamo che finalmente ci diano ascolto. La cronaca, ennesimo assalto a una filiale della Tercas, stavolta con l'esplosivo in Viale Crispi a Teramo. Un boato ha svegliato poco prima delle 5 il quartiere vicino alla stazione ferroviaria. Dopo il recente colpo fallito al postamat di Bellante, dove era stata utilizzata una macchina come Ariete stanotte usando l'ossiacetilene. La banda ha fatto saltare in aria tutto, innesco a distanza ed esplosione che ha distrutto arredi infissi e anche la blindatura del bancomat che è stato portato via. Si tratta dell'ottavo colpo del genere in quattro mesi, il sesto a una filiale Tercas. Il bottino si aggira intorno ai 50 mila euro. La cassa era stata caricata ieri sera alla chiusura della filiale. La Procura della Repubblica di Avezzano non ha disposto l'autopsia sui corpi dei due coniugi ritrovati la scorsa notte senza vita in un'auto carbonizzata. Si tratterebbe di un evidente caso di suicidio. Era stato un passante a notare la Renault Twingo in fiamme, parcheggiato in una strada poco fuori il paese di Trasacco, in provincia dell'Aquila, avvisando il 115. I vigili del fuoco raggiunto il luogo del ruogo avevano poi scoperto che nella macchina erano adagiati i corpi dei due che probabilmente avevano usato una sostanza infiammabile per appiccare l'incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Avezzano che hanno ascoltato i familiari della coppia. La donna era malata da tempo. I funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio alle 15 presso la Basilica di Luco dei Marsi. È uscito nelle sale cinematografiche il 6 aprile The Startup, una pellicola curata dal regista bruzzese Alessandro Dalatri e interpretata dal giovane esordiente pescarese Andrea Arcangeli. Il film racconta del grande schermo, sul grande schermo, la storia di Matteo Achilli, definito il Mark Zuckerberg italiano. Vediamo. Una start-up che si trasforma in successo, un giovane liceale che inventa una piattaforma per selezionare, secondo titoli e meritocrazia, figure professionali nella difficile giungla del lavoro giovanile. Un'idea che trasformerà la sua vita alla velocità del web, un successo che non risparmierà sofferenze e scelte difficili. Il film è basato su una storia vera, quella di Matteo Achilli, ideatore di Egomnia, e arrivato da poco nelle sale cinematografiche d'Italia. E a recitare nel ruolo di protagonista Andrea Arcangeli, giovane esordiente pescarese di origine, trasferito ormai a Roma da diversi anni. Sei settimane di lavoro per girare la pellicola tra Roma e Milano e l'emozione di chi si trova catapultato nel lavoro dei suoi sogni e lo assapora pieno. Il film è bello secondo me per due motivi principali. Uno per i temi che tratta. È un film che dà speranza per chi lo vede, soprattutto per i ragazzi e i giovani, viene voglia di rimboccarsi le maniche e fare, piuttosto che prendere e andarsene, perché tanto la situazione in Italia è quella che è. E poi dall'altro lato è un film che secondo me è necessario proprio per il cinema italiano, perché si inserisce tranquillamente in quel filone di film che dà qualcosa in più al cinema rispetto alle cose che si vedono solitamente. Questo film non celebra il sito che questo ragazzo ha creato, è soltanto una sorta di pretesto per raccontare una storia bella italiana di un ragazzo che da una realtà piccola che è quella della periferia di Roma è riuscito a portare avanti il suo progetto. Una storia che mostra entrambe le facce della medaglia, il successo, l'ambizione e il prezzo delle proprie scelte, simbolo di un'era sempre più liquida ed effimera che punta l'attenzione sui valori vecchi e nuovi messi duramente a confronto. Non essere pronti a quello che il successo ti porta. Racconta com'è facile perdere la lucidità in niente, in un attimo. Poi a questo si aggiunge il carico che il suo sito appena va online fa un boom incredibile e lui inizia a perdersi totalmente e a perdere i suoi appigli, cioè gli amici, la ragazza. Ed era stato bello interpretare questi lati, questa zona d'ombra del personaggio. L'Associazione Ex Parlamentari della Repubblica e Istituto Abruzzese per la storia della resistenza hanno organizzato all'Aquila un convegno per riflettere sul rapporto tra resistenza e Costituzione. Il Palazzo dell'emiciclo ha ospitato il convegno all'Abruzzo e l'Italia dalla resistenza alla Costituente, 1943-1946. L'evento di divulgazione e approfondimento storico promosso dall'Associazione Ex Parlamentari della Repubblica e dall'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza dell'Italia contemporanea. Gli interventi si segnalano quello del senatore Antonello Falomi, presidente nazionale Associazione Ex Parlamentari della Repubblica, del senatore Germano De Cinque, coordinatore regionale per l'Abruzzo dell'Associazione Ex Parlamentari, e del professor Carlo Fonsi, presidente dell'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza dell'Italia contemporanea. Presente anche Nicola Mattoscio in qualità di presidente della Fondazione Brigata Maiella. Più che ricordare vuol dire guardare al futuro e sotto questo aspetto credo che nessuna interpretazione della nostra Costituzione sia più efficace, più bella, più intrigante di quella che ce ne diede nel 1955 Calamantrei, uno dei padri costituenti, il quale diceva che, disse in un famoso discorso, che la nostra Costituzione è al tempo stesso un programma e un testamento. L'obiettivo è quello non solo di ricordare la storia importantissima, questi tre anni dal 43 al 46, dall'8 settembre del 43 fino appunto alla proclamazione della Repubblica e poi all'istituzione, all'insegnamento dell'Assemblea Costituente che porterà alla Costituzione, ma anche quello di fare in modo, soprattutto ai ragazzi, alcuni studenti che sono presenti, fare in modo che la storia diventi azione di vita, che si ricordi e si porti avanti questo tema democratico, questo tema di libertà. Ecco, non dobbiamo dimenticarlo, quindi ricordare il passato ma per utilizzarlo per il presente e per il futuro. E ora andiamo a Teramo, l'Istituto di Popparozzi ha ospitato la serata conclusiva del progetto Italian Food di cui è capofila. Si è concluso con successo il progetto Italian Food che ha visto capofila l'Istituto Alberghiero di Popparozzi di Teramo. Tale progetto ha coinvolto altri due istituti alberghieri di Enna e Vicenza, con i quali si sono avuti scambi di visite reciproche da parte di docenti e alunni allo scopo di conoscere la cultura enogastronomica delle tre regioni delle scuole partecipanti. Abruzzo, Sicilia e Vento. Siamo contenti di essere qua ospiti dell'Istituto Alberghiero di Teramo che col progetto Italian Food Modern Brand ha voluto proporre i prodotti enogastronomici di ogni realtà gastronomica, culturale, turistica delle tre regioni di appartenenza e far conoscere agli studenti dei tre istituti queste realtà. Non ci aspettavamo questa accoglienza da parte di questa cittadina. Lo slogan che ho letto stasera nel menù è bellissimo e dice Abruzzo forte e gentile. In questi due aggettivi si racchiude tutto quello che noi abbiamo veramente trovato in questa terra. Siamo stati vincitori di un concorso ministeriale che ha permesso di unire tre alberghieri di Teramo, Enna e Vicenza per un'attività insieme di promozione dei prodotti del proprio territorio. Siamo stati ospitati dalla Camera di Commercio di Madrid e con un bellissimo evento presso l'Ambasciata Italiana a Madrid e il console proprio ci ha accolti. È stata una serata bellissima e abbiamo portato con noi anche i produttori molto importanti del nostro territorio a promuovere i prodotti. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Non ce l'ha fatta il Pescara a riaprire la corsa salvezza. Nonostante una prestazione generosa, i biancazzurri non sono andati oltre l'1-1 al Castellani di Empoli. Sotto per effetto del gol di El Cadduri, il Pescara ha pareggiato al 31esimo con Caprari. Nella stessa stazione si è infortunato il centravanti Baibach, sostituito da Zeman con Brugman. Il Pescara poi ci ha provato fino alla fine, ma non è riuscito a superare l'Empoli. Dunque discorso salvezza che va sostanzialmente in archivio. Ascoltiamo ora i protagonisti, in particolare il portiere del Pescara Fiorillo, il tecnico Zeman. È un pareggio molto amaro perché abbiamo creato molto. Oggi abbiamo veramente lottato su ogni pallone. era una giornata molto calda, era difficile tenere i ritmi alti, ma penso che ci siamo riusciti per una buona parte della partita. Resta tanto dispiacere perché oggi volevamo i tre punti. Penso tutti i giorni a questa salvezza che diventa sempre più miracolosa. Io rispondo per me e ci penso tutti i giorni. Quindi spero e credo che lo facciano tutti i miei compagni o perlomeno la maggior parte. Abbiamo l'obbligo e soprattutto l'orgoglio da tirare fuori e devono venire fuori i valori delle persone, degli uomini, prima che dei calciatori adesso. È mancato poco perché non siamo stati pronti sul loro schema su rimessa laterale, che è una cosa che non possiamo permetterci in questo momento di non essere reattivi su una rimessa laterale. Loro si hanno colpito il palo, ero sempre coperto in quelle punizioni, avevano due grandi tiratori, però abbiamo reagito bene. Oggi ci è mancata solo la mira. Io credo che la fortuna a volte vada dove bisogna un po' attirarsela, bisogna un po' cercarsela. In questo momento altre volte non l'abbiamo meritata, ma ultimamente meriteremo un pizzico di fortuna in più. Quest'anno non abbiamo fatto nulla o veramente poco per portare la gente dalla nostra parte, quindi non abbiamo motivo di poter dire niente. Io sono qua ormai da tre anni, quindi so quando le cose vanno in un certo modo che c'è un certo tipo di atteggiamento. Qual è la piazza? Adesso in questa situazione non possiamo chiedere niente a nessuno, dobbiamo solo lavorare. Peccato, perché penso che per il numero di occasioni noi abbiamo fatto qualche cosa di più. Poi è normale che in calcio si gioca chi fa più gol. Noi non siamo riusciti a sfruttare quelle tre o quattro occasioni che di solito si concretizzano. Però sono contento che la squadra ha cercato, è riuscita a mettere Empoli in difficoltà. E ora alla Lega Pro, il Teramo domani alle 16.30 ospiterà il Bonolis La Reggiana. Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Ugolotti dopo la seduta di rifinitura di quest'oggi. Manca ancora una volta l'attaccante Petrella. Potrebbero esserci delle novità in formazione. In avanti toccherà a Barbuti, match winner ad Ancona. Nel ruolo di trequartista la sorpresa potrebbe essere Baccolo che sarà preferito a un fratangelo affaticato. In difesa invece dovrebbe toccare a Scipioni che giocherà a destra. Ci sarà lo spostamento di Sales a sinistra. Dunque l'escluso sarà Carcalis. Ascoltiamo ora il tecnico terramano Ugolotti. Dipende da noi, dipende. Non dobbiamo fermarci. Abbiamo fatto qualche cosa di importante però se guardate la classifica non basta perché nonostante abbiamo fatto in queste quattro partite dieci punti oggi come oggi saremo ancora dentro il play-out e di conseguenza bisogna fare un ulteriore sforzo. L'ho detto, abbiamo questa possibilità delle due partite in casa e dobbiamo cercare di giocarle al meglio come hanno fatto le altre ultime partite. In alcuni reparti non abbiamo la possibilità di alternare altrimenti andremo a secondo ogni punto di vista a toccare degli equilibri che in questo momento sono molto ma molto sottili di conseguenza dobbiamo giocoforza rischiare dei giocatori tre partite in una settimana e l'incognita è lì. L'incognita è di trovare di fronte un avversario che sicuramente ha una posizione di classifica che gli può permettere anche di poter giocare la partita in maniera spensierata nel senso che hanno una posizione di classifica già ormai consolidata hanno una qualità perché torno a rivedere perché per stare lì non è che si sta per caso la Reggiana ha della qualità a dei giocatori è una rosa è vero che è una squadra fatta ex nuovo quest'anno però è una rosa molto molto competitiva di conseguenza le insidie sono queste. Se la difesa prende pochi gol è merito del centrocampo che si sacrifica è merito degli attaccanti che fanno un lavoro che molte volte può sembrare oscuro però noi dobbiamo cercare giocoforza di lavorare con tutti è merito dei centrocampisti esterni che rientrano e fanno sempre diagonale cioè dare le coperture giuste in ogni zona del campo con l'aiuto soprattutto degli attaccanti. Barbuti potrebbe giocare dall'inizio ha fatto bene sono contento che abbia fatto gol stiamo gestendo anche lui un piccolo fastidio che si porta dalla partita con il Venezia un ginocchio, una botta ma niente di particolarmente grave dovremo valutare diverse cose avete visto che l'altra sera il ragazzino Fratangelo è uscito perché aveva un po' di fastidio a una gamba abbiamo alcune cose soprattutto lì davanti da verificare è una squadra molto tecnica è una squadra che gioca a pallone è una squadra che non buttava in via la palla ha buona qualità in tutti i reparti è vero gli mancherà qualche giocatore però ha una rosa molto competitiva torna a ripetere per rimanere per tanto tempo lì a giocarsela alla pari perché poi alla fine ha giocato alla pari con tutte le squadre che ha incontrato significa che la qualità è molto elevata e che partita mi aspetta? è una partita in cui noi non dovremo sbagliare niente come abbiamo fatto siamo costretti a non sbagliare niente giocare su dei ritmi probabilmente un pochettino alti per cercare di metterli in difficoltà e cercare di sfruttare tutte le situazioni sia quelle che ci possono capitare durante le azioni di gioco che quelle da gioco da fermo Ed ora la serie D si sono giocati due anticipi nel girone G entrambe le partite interessavano le squadre abruzzesi l'Avezzano ha perso all'anno 6 1 a 0 la gara si è giocata alle 14.30 col partita di Bonu nel secondo tempo l'Avezzano che perde a testa alta dopo aver affrontato una trasferta molto difficile dal punto di vista logistico invece mezzo passo falso per l'Aquila che vanifica la rincorsa verso i primi posti dopo le vittorie nell'ultimo periodo l'Aquila fermata sull'1 a 1 dal Muravera che strappa un importante punto salvezza l'Aquila che era andata in vantaggio ad inizio ripresa con Peluso che era da poco entrato in campo ma nel finale è stato legname a segnare il gol del definitivo 1 a 1 e poi c'è la partita anche Foligno città di Castello che non si gioca ma abbiamo già attribuito lo 0 a 3 a Tavolino per la compagine Umbra e finiamo qui dunque questa seconda edizione del TG6 la prossima edizione alle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS